Vorremmo chiuderla bene, per noi, per i tifosi, per i ragazzi, un po' per tutti. Ci teniamo molto, faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Purtroppo il campo a volte non è sempre uno più uno, faremo di tutto, ma i ragazzi lo sanno, ce la metteranno tutta, ce la metteremo tutta e speriamo di portare a casa un risultato importante. Non dico che ci possiamo, tra virgolette, assomigliare per il cammino, perché comunque loro hanno 21 punti, però è una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra che in questo girone a tratti è stata la migliore, a giocare a calcio, con questo 3-5-2 ma che diventa iperoffensivo, con due attaccanti, gli esterni sono alti, due centrocampisti, quindi è una squadra che attacca sempre con molti giocatori e quando è in giornata ha messo in grande difficoltà tutte le avversarie e il mister loro ha questo tipo di mentalità. E quindi dobbiamo essere molto attenti e bravi a non concedere loro spazio, perché invece se riusciamo a stare bene corti, raccorti e ripartire possiamo fargli male. Cerco di avere più risposte positive in certi ruoli con qualche giocatore, quindi sì, è un po' questo il pensiero di De Grazia davanti alla difesa e per cercare di alzarsi molto di più, per andare a prendere il loro play, che può essere o Zecchin o Boscolo Papo, per cercare i due attaccanti di farli stare un po' più alti e lui alzarsi un po' di più. Settimana scorsa invece avevo preferito Graziano perché avevano due trequartisti o uno più di un giocatore che attaccavano le spalle dei centrocampisti e avevano bisogno di uno un po' più basso. Ecco, è questo un po' il pensiero. Però il pensiero di domani, come a Reggio al primo tempo, un po' diverso. A Reggio ci siamo abbassati un pochino e che ci stava, ma anche domani purtroppo sarà una partita del genere, che loro attaccano con molti, però è ripartire immediatamente con qualunque giocatore si trovi in zona palla. Quindi saranno i centrocampisti, saranno i quinti di difesa, sicuramente gli attaccanti. Questo è quello che dovremo cercare di fare domani.